Buona domenica, ben trovati in una nuova edizione del Tg6 la settimana. Già lunedì scorso Pescara ha abbracciato la prima famiglia ucraina fuggita dalla guerra. Ad accoglie là in municipio il capogruppo dell'Udc al comune di Pescara Massimiliano Pignoli, il quale si sta occupando di trovare una sistemazione a questa famiglia. Ascoltiamo. Mi è rimasta lì la mamma, mio figlio invalido oppure mio fratello che fa la guerra perché sta con il contratto. E mi dispiace anche che non posso neanche aiutare a loro. 24 ore fermi alla frontiera romena di Sirat e poi un lungo viaggio di 30 ore per raggiungere Pescara. L'odissea vissuta da Bozena, 32 anni, partita in auto dalla città ucraina di Cernivzi, con i suoi due figli gemelli di 4 anni e la sorella 13enne giunte nel capologo adriatico questa notte ad accoglierli alla Dogana e il papà Valerio da anni in Italia e che ha potuto finalmente riabbracciare la sua famiglia. Guarda, un terrore che io c'ho ancora sulla pelle perché non riesco ancora a accettare che facciamo tutta questa guerra. Io non lo so perché, per quale motivo. Spero che il Comune aiuta, che dà la mano di tutto per la scuola, per l'asilo, perché i nipotini non devono vedere tutta questa cosa. In Comune la famiglia è stata accolta dal gruppo dell'Udici di Palazzo di Città guidato da Massimiliano Pignoli, il quale ha già avvisato il sindaco, il presidente del Consiglio Comunale e l'assessore alle politiche sociali per trovare nel più breve tempo possibile una sistemazione a questa famiglia. La politica sociale attraverso l'assessore di inizio che si sta occupando adesso dalla parte più operativa, cioè quella della sistemazione, perché ovviamente ci sono i minori, quindi va trovata una sistemazione ad hoc rispetto alle esigenze che possono avere di minori rispetto a degli adulti. Per cui Pescara integra, l'Udici aiuta ed è sempre presente per i bisogni non solo della scena di Pescara, ma devo dire a questo punto anche rispetto a quello che sta accadendo a migliaia di chilometri da noi. Per far fronte alla necessità straordinaria di personale sanitario legate all'emergenza Covid, le ASL potranno assumere a tempo determinato anche professionisti con cittadinanza di paesi extra UE. Lo ha deciso l'Aggiunta regionale dell'Abruzzo che ha approvato una specifica delibera proposta dall'assessore alla salute Nicoletta Veri. Le quattro ASL abruzzesi per far fronte alle necessità straordinarie di personale sanitario legate all'emergenza Covid-19 potranno assumere a tempo determinato anche professionisti con cittadinanza di paesi extra Unione Europea. Lo ha deciso l'Aggiunta regionale d'Abruzzo che ha approvato una specifica delibera proposta dall'assessore alla salute Nicoletta Veri. La possibilità di reclutare personale extra Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta attività lavorativa e con un'adeguata conoscenza della lingua italiana è prevista da una legge statale dello scorso novembre che consente assunzioni fino al 31 dicembre prossimo e limitatamente alle strutture sanitarie effettivamente impegnate nella gestione della pandemia. E' una possibilità in più, spiega l'assessore Veri, a cui le nostre aziende sanitarie potranno fare ricorso in caso di necessità. Le graduatorie ancora valide e le altre procedure utilizzate finora non sempre sono infatti sufficienti a colmare le carenze di personale che spesso si verificano in questi mesi di grande pressione sulle strutture. Di qui la decisione di prevedere questa opportunità rivolta a professionisti adeguatamente formati che potranno essere inseriti temporaneamente negli organici ASL. Dall'Ucraina arrivano ai connazionali in Italia notizie da parenti e amici che raccontano delle vittime straziate e di come alcuni soldati russi si tolgano le divise perché non condividono la guerra intrapresa da Putin. A raccontarci con sofferenza questa retroscena è Dasha, una ragazza ucraina che da otto anni vive e lavora a Chieti. Ascoltiamo. La comunità ucraina in Abruzzo è una comunità consistente e anche a Chieti molti ucraini hanno scelto di venire. Tra questi c'è una giovanissima ucraina, Dasha, che ha lasciato comunque in Ucraina parte della sua famiglia. Oltre il tuo papà, chi c'è adesso in Ucraina? Ci sono i miei nonni, mio zio, mia zia e i miei cugini, tutti i miei cugini ci sono lì. Le notizie che ti arrivano da loro quali sono? Le notizie bruttissime, c'è la guerra, c'è la guerra vera, la gente che sta morendo, ci sono i nostri soldati che, bravissimi, stanno facendo molto per salvare la nostra terra, per far sì che non ci sta occupazione, far sì che far uscire tutti quanti. Stanno proteggendo loro, i loro figli e le loro mogli. Ecco, ci hai raccontato che tua nonna ha chiesto a tuo zio che è in Ucraina di raggiungerla qui in Italia, ma lui non ha voluto, addirittura ha indossato la divisa e sta combattendo. Dove precisamente? In città Rivne, che sta non molto vicino a Kiev, però sta lì. Niente, sì, lui ha detto che non vuole venire, che non verrà in Italia. Ha detto che io rimango nel mio paese, a difendere il mio paese perché devo costruire un futuro per le mie figlie, devo dargli la terra, devo dargli qualcosa. E gira un video dove hanno portato con pronto soccorso una bambina piccola, 8-9 anni, stavano ricoverando e non ce l'hanno fatta. E non è solo lei, ci sono le persone a pezzi e non solo l'Ucraina, anche persone russe. E mi dispiace, mi dispiace perché sono ragazzi. Ci sono molti soldati russi che vengono presi dai nostri perché loro si consegnano, si consegnano spontaneamente perché loro non sapevano neanche che stavano venendo da noi a fare la guerra. E i nostri soldati li prendono, non li ammazzano, quelli che non fanno saltare per l'aria li salvano. Dicono dammi il numero di tua mamma, tieni, chiama tua mamma e dici che stai in Ucraina, stai qua da noi. Dobbiamo parlare di queste cose, dobbiamo far capire al mondo intero chi è Putin e quello che sta facendo. Che dolore sta creando a tutti. Dobbiamo aiutare, almeno parlare. Dobbiamo, se è possibile, donare perché al nostro popolo serve, magari adesso serve cibo, serve medicina, serve pure le cose calde che se possiamo mandare. Infatti stiamo cercando di organizzare qualcosa per mandare lì. Ma basta anche una parola, basta anche dire e far vedere che sta succedendo lì. Martedì giorno di carnevale i locali di piazza Muzzi e via Cesare Battisti a Pescara hanno deciso di non aprire le loro attività in segno di protesta contro le recenti decisione dell'amministrazione comunale. Vediamo. Siamo nella centralissima piazza Muzzi a Pescara, oggi giornata di carnevale, ma questa sera non ci sarà nessuna festa qui nelle vie della Movida della città adriatica perché gli esercenti e i gestori dei locali della Movida hanno deciso di tenere giù le serrande per rispondere a quelle che sono state le nuove ordinanze messe dall'amministrazione comunale, targata Carlo Masci. Vetrine tappezzate di manifesti funerari in via Battisti e piazza Muzzi in segno di protesta contro lo stop alla somministrazione di alcolici dopo le 24 e contro l'ordinanza del sindaco con cui ha prorogato al 31 marzo la chiusura a mezzanotte delle attività dalla domenica al giovedì, anche se la normativa del 2021 è ormai superata e le modifiche del 2007 e del 2010 consentono la somministrazione di alcolici fino alle 3. La città sta morendo e in vista dell'estate le previsioni non sono le più rose e dice Sara Di Blasio responsabile di una delle attività proprio in piazza Muzzi. Noi a prescindere che rendiamo la città bella, pulita, interessante, vogliamo fare anche altro per questo ma non ci dà la possibilità la nostra amministrazione e poi ci sono dei posti di lavoro da tutelare se lui ci fa chiudere a mezzanotte poi solo a piazza Muzzi chiaramente a noi ci crea problemi, problemi seri. Dall'altra parte della barricata ci sono i residenti i quali si schierano a favore delle limitazioni. Non rispettano le regole, da quando è stato emesso la possibilità di inserire più tavolini fuori occupano tutto il suolo pubblico e non si può camminare. E poi la sera dopo una certa ora sappiamo noi vomiti, schifo, botte da orbi che si danno sui ragazzi allora possono fare una cosa, da mezzanotte in poi anziché vendere alcolici possono vendere succhi di frutta oppure frullati di frutta. Noi abbiamo ripulito quella zona perché forse le persone non si ricordano quello che c'era in quella zona soprattutto negli anni passati. Io penso che chi torna a casa è anche più sicuro in questo momento. Con Fartigianato intanto si è fatto promotore di una richiesta d'incontro con sindaco e capigruppo per chiarire, si legge nella nota, qual è la pescara del futuro secondo l'amministrazione. E fare un punto, un tavolo dove venire incontro a noi e ai residenti che devono dormire ma noi mica diciamo che i residenti non devono dormire. È questo che il segnale è sbagliato, il messaggio è sbagliato perché noi vogliamo che i residenti siano tranquilli ma dobbiamo lavorare anche noi. 150 bambini che erano in un orfanotrofio in Ucraina sono alla frontiera tra Ucraina e Polonia e aspettano di scappare dalla guerra. Calina lancia un appello agli abruzzesi. Ascoltiamo. È un appello struggente e pieno di umanità quello di Calina Soliak, 33enne, giovane dell'Ucraina che da pescara chiede aiuto per la sua gente, soprattutto per la sistemazione di tanti orfani. Alcuni bambini fuggiti alcuni giorni fa da un orfanotrofio per scappare dalle bombe sono riusciti a lasciare il paese, altri sono invece rimasti e sono stati sistemati in case famiglia. L'appello riguarda anche la sistemazione di tante persone che stanno arrivando dal paese e soprattutto di mamme con bambini piccoli. Abbiamo trovato tantissime famiglie disponibili a accogliere questi bambini, siamo davvero tanti. Adesso ieri erano 150, quello che è l'informazione, ieri al confine. Adesso stanno al sicuro, non sappiamo dove adesso sono, però questo è importante che stanno al sicuro. La situazione cambia per altri bambini che non riusciamo a portare al confine perché per tanti motivi, anche burocratici, logistici, dobbiamo fare in fretta in questo momento. Non possiamo stare tutto questo tempo, non abbiamo tempo. Arrivano anche, vorrei chiedere a persone se mi possono contattare per sistemare, anche dare un sostegno alle mamme con bambini, con un bambino che possono ospitare una mamma con bambino, dare un appoggio. Un alloggio, un appoggio. Sì, un appoggio, un alloggio. Incredibile, quante persone vogliono aiutare il popolo italiano, davvero, è meraviglioso. Grazie di tutto, però cerchiamo anche di fare qualcosa per queste mamme che hanno abbandonato tutto e non hanno niente. La situazione è davvero critica e dobbiamo fare in fretta. Chi può aiutare, in qualsiasi modo mi contatti. Possiamo dare un riferimento per il contatto? Sì, mi mandi un messaggio con scritto nome e cognome disponibile, o ospitare un bambino, metto in una lista, o ospitare mamma con bambino, metto in un'altra lista. Qualsiasi disponibilità, anche di cose che mandiamo necessarie, qualsiasi cosa. Chi può aiutare, aiuti. Grazie. Polemiche a Montesilvano per la sabbia che nella zona dove erano state tagliate le siepi, nei giorni di vento e mareggiata, finisce in strada. Il Partito Democratico e il Movimento a Cinque Stelle criticano la giunta De Martinis. Vediamo. Tornano le polemiche a Montesilvano dopo quanto è accaduto negli ultimi giorni, in maltempo, che ha riversato sulla riviera tantissima sabbia, che ha creato problemi anche agli automobilisti. Voi tornate a battere su quello che è un problema ormai annoso. Sì, è un problema annoso, ma direi anche strutturale, perché è evidente che questa amministrazione continua a perseverare senza una visione e un progetto della città futura. E lo è stato questo intervento che ha interessato il lungomare, perché effettivamente quella che veniva spacciata come una riqualificazione del lungomare, che assolutamente non ci vede d'accordo, insomma, in realtà non è stata la riqualificazione di un lotto del lungomare, ma un rovinare, quello che c'era, cioè rimuovere un cordolo di una ciclabile inaugurata da poco, estirpare le siepi, considerandole come ricettacolo di sporcizia, quindi non è chiaro neppure il concetto di manutenzione e cura del verde, e rimuovere i tamerici, mettere un paio di panchine dal design piuttosto accattivante, ma improprio, considerando il tratto di ciclabile, tra l'altro nel fatto che sentiamo il bluetooth per un'estate, immagino perché poi la salsedine farà il resto, e i problemi invece sono all'ordine del giorno, perché ad ogni mareggiata vediamo quello che succede, quindi la sabbia si riversa sul manto stradale in più occasioni. Si guarda anche alle possibili soluzioni a questo punto, comunque a cercare di risolvere questo problema, insomma adesso bisogna guardare avanti. Guardi, noi le soluzioni le abbiamo proposte, ne abbiamo dette tante, soprattutto quando il cantiere era in fase di realizzazione, siamo stati lì a controllare e abbiamo lì trovato parecchie anomalie, tant'è vero che poi si è aperto un procedimento, credo dalla Prefettura, dalla Procura, e quindi voglio dire, noi di questa cosa ce ne siamo occupati. Le soluzioni, torniamo a dire, ci sono, si tratta solamente di attuarle e anche in modo molto veloce, perché noi abbiamo fatto vedere delle soluzioni che ci sono in varie città balneari, dove addirittura ci possono essere, visto che quell'area loro vogliono destinarla a un'area di eventi, e ci sono delle panchine che si possono al momento opportuno rimuovere, e quindi voglio dire, realizzare un'opera ben definita, proprio per gli eventi che eventualmente si dovranno fare e realizzare. Nell'ultimo decennio, secondo un studio di Confcommercio, nei capoluoghi di provincia, nella nostra regione, hanno chiuso circa 300 attività commerciali. Insieme ai negozi, diminuiscono anche ristoranti e alberghi, e a farne le spese sono soprattutto i centri storici. Nei capoluoghi di provincia abruzzesi sono scomparse, nel giro di nove anni, circa 300 attività commerciali, e quanto emerge dal report del Centro Studi Nazionale di Confcommercio, che ha tracciato l'evoluzione del tessuto economico nell'ultimo decennio. Teramo è il capoluogo che registra il dato più negativo, qui ha chiuso più di un negozio al dettaglio su quattro. Segue Chieti, che registra un meno 14,3% di attività, e poi Pescara e L'Aquila, dove hanno chiuso i battenti rispettivamente l'8,3% e il 6,3% dei negozi. Il dato è coerente con quanto successo nel resto d'Italia. Confcommercio, infatti, ha preso in esame 120 comuni di medie e grandi dimensioni, per un totale di 921.000 attività, di cui 467.000 riguardano il commercio al dettaglio in sede fissa. Ciò che emerge dallo studio è che la crisi è a prescindere dal Covid. Negli ultimi nove anni in Italia hanno chiuso 85.000 negozi, di cui solo 4.500 durante la pandemia. In controtendenza, però, alcune particolari categorie legate al settore del turismo, come le attività di ristorazione legate allo street food e al takeaway, o tipologie di alloggio come i bed and breakfast, che hanno registrato un trend positivo anche durante l'emergenza sanitaria. Riguardo la ristorazione, l'Abruzzo è in linea col resto del paese. Le attività sono aumentate, ma con differenze sostanziali rispetto alla geografia delle città. Se nei centri storici, il dato in positivo è solo dell'1,74%, nelle periferie è di circa il 16%. E mentre nei soborghi le attività ricettive abruzzesi sono cresciute di oltre l'8%, alloggiare nei centri storici è sempre più difficile, a differenza di quanto accade nel resto d'Italia. Nel cuore dei capoluoghi abruzzesi è sparita un'attività ricettiva su quattro. Il report, insomma, fotografa un decennio di lenta desertificazione dei centri storici abruzzesi. C'è urgenza di politiche attive e provvedimenti concreti, fanno sapere da Confcommercio Abruzzo, ma anche di un partenariato istituzionale e socio-economico per mettere in campo strategie condivise che permettano di contrastare lo spopolamento, utilizzando bene i fondi a disposizione, dalle risorse finanziarie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a quelle della politica di coesione 2021-2027. Il presidente della regione, Marco Marsilio, ha parlato dell'arrivo di profughi ucraini in Abruzzo, specificando che l'Abruzzo è pronto per un'eventuale vaccinazione di chi arriva dall'Ucraina. Vediamo. L'Abruzzo è pronto ad accogliere chi scappa dall'Ucraina in guerra e anche a vaccinare i profughi che entreranno nella nostra regione. Lo ha detto questa mattina a Pescara il presidente Marco Marsilio, che è in costante contatto anche con il governo nazionale. Il tema è che in Ucraina la percentuale di vaccinazione è molto bassa e quindi è probabile che la gran parte delle persone che arrivano non sono coperti da questo punto di vista di protezione. Quindi ora stiamo interloquendo con le strutture anche del commissario per capire come affrontarlo. Noi comunque i quantitativi a disposizione li abbiamo perché siamo riforniti. Insomma abbiamo scorte sufficienti per poter affrontare anche una eventuale campagna di vaccinazione per gli immigrati ucraini. Da questo punto di vista ci stiamo ovviamente attrezzando per poterlo fare. Attendiamo di definire modalità operative insieme al governo. Non voglio scendere in dettagli burocratici o amministrativi, però si tratta di identificare le persone, dargli una classificazione come soggiornanti temporanei, quindi persone straniere temporaneamente presenti sul territorio. Si tratta di attivare una macchina ma nei prossimi giorni ci faremo trovare pronti alla bisogna. Nel frattempo il tema vero è capire quanti ne arriveranno, quanto durerà ancora questa emergenza, se la guerra perdura, se si troverà la via della pace e del dialogo, piuttosto che di una lunga e sfibrante resistenza che comporterebbe milioni e milioni di profughi in tutta Europa, quindi un impatto anche notevole anche sul nostro territorio. 10 milioni di euro per 10 anni volti alla nascita della nuova Pescara. I senatori D'Alfonso Pagano e Bagnai chiedono di disporre nel sostegno ITER l'aumento dei finanziamenti del MEF per la fusione dei comuni. Ascoltiamo. 10 milioni di euro all'anno dal Ministero dell'Economia fino alla fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore. I senatori abruzzesi D'Alfonso Pagano e Bagnai, rispettivamente del PD, di Forza Italia e della Lega, chiedono a colpi di emendamenti che la norma venga inserita nel decreto Sostegni TER che dovrebbe essere definito la prossima settimana. Il MEF già dispone un finanziamento di 2 milioni l'anno per la fusione dei piccoli comuni. I senatori chiedono di aumentare il tesoro volto alla nascita della città che conterrà circa 250 mila abitanti, denaro che sarà necessario ad esperti professionisti esterni per l'unificazione dei servizi delle tre città, dalla raccolta dei rifiuti alla riscossione dei tributi fino all'unificazione delle polizie locali. Del parto della nuova Pescara, Ostetrico potrebbe essere un commissario ad hoc che finora però non è stato nominato. Secondo gli emendamenti, a firma dei tre senatori abruzzesi, il finanziamento plurimilionario con cadenza annuale potrà durare per un massimo di 10 anni, bene al di là quindi del limite del 2024 fissato per la fusione. Nel 2014 infatti c'era stato il referendum, vinse il sì con il 64%. Quattro anni dopo il Consiglio regionale approvò all'unanimità la legge che stabiliva modi e tempi della fusione che dovrà avvenire entro il 2023. I tre sindaci potranno decidere un'unica volta di prorogare di un anno la data di scadenza. La nuova Pescara sarà divisa in municipalità, come avviene ad esempio a Roma, questo per garantire una sorta di autodeterminazione dei territori e soprattutto per salvare il ruolo degli amministratori. Non è ancora deciso però quanti saranno i municipi, se tre o più. Intanto si placa la polemica di quando una delegazione abruzzese portò la fusione sul tavolo della ministra Lamorgese in un incontro del 16 febbraio scorso organizzato da D'Alfonso. In quell'occasione non era stato invitato alcun rappresentante dei due comuni cosiddetti minori con grande offesa dei presidenti dei rispettivi consigli comunali. Giovedì scorso il senatore Pd è tornato a Roma, ha incontrato il sottosegretario Garofoli, questa volta per parcondicio ha portato con sé il sindaco di Spoltore, di Lorito, e il vice sindaco di Montesilvano, Cilli. Adesso cambiamo argomento e parliamo di sport. Vincere anche per dimenticare il bruciante K.O. di Modena. Nel presentare la gara con il Siena all'Adriatico, il tecnico pescarese Gaetano Auteri, pur rispettando i toscani, non si nasconde. Ferrari tornerà al centro dell'attacco dal primo minuto. Vediamo. Si assottiglia il numero di giornate e cresce la necessità di fare punti in ottica play-off. Gaetano Auteri non ci gira intorno e sprone il suo Pescara a riprendere una marcia a pieno ritmo dopo un tour de force delle ultime cinque partite che, secondo il tecnico Biancazzurro, ha ricalcato l'andamento del campionato. Tante volte abbiamo raccolto meno di quello che abbiamo seminato in campo. È chiaro che alcune volte abbiamo fatto anche degli errori, tante altre volte li hanno fatti anche altre sfere, perché insomma l'espulsione di Ferrari a fermo, l'espulsione di Drudi, eccetera. Però hanno detto che quello che ha detto fino adesso è il campionato, che se acquisiamo continuità, questo è un gruppo che esprime coralità, giochiamo da squadra, ecco, e quindi ci sono anche qualità all'interno di questo gruppo, chiaramente. Poi nessuna squadra è perfetta, abbiamo pregi e difetti, ma ci può dare conforto quello che abbiamo fatto. Questo però appartiene al mondo della teoria e delle chiacchiere. Il campo è un'altra cosa, tutto questo che noi pensiamo lo dobbiamo confermare in campo. Domani alle 17.30 il Pescara ospita il Siena e al centro dell'attacco tornerà quel Ferrari rimasto in panchina a 90 minuti a Modena a sorpresa. Scelta tecnica come inizialmente fatto trapelare, non solo, Auteri la spiega così. Mentre ha preso una scolifica in quella mezz'ora a fermo, che era conseguente di una partita fatta tre giorni prima, è stato scolificato e ha preso anche un brutto colpo alla costola. Per cui per 5-6 giorni proprio non poteva neanche respirare, quindi di cosa stiamo a fare? Non è una scelta tecnica, ma ci può stare tutto. Ma tutti siamo utili, nessuno è indispensabile. Ferrari adesso ha l'opportunità. Contro il Siena non ci sarà Drudi squalificato, Ilanes favorito su Gerardi per la sua sostituzione, Zappella, Ingrosso e Veroli a completare la difesa, solita mediana con Pompetti, Pontisso e Derisio, davanti Ferrari con lui Dursi e uno tra Rauti e Clemenza. Cernigoi e Diambo non al massimo partiranno dalla panchina, così Auteri sul Siena. Incontreremo una squadra che ha buona qualità e che sa palleggiare bene, per cui se non vogliamo fare passare il tempo facendoli palleggiare dobbiamo giocare una partita molto aggressiva, essere corti, compatti ed evitare che questo avvenga. È una squadra buona, ben allenata da un collega come Padalino che stimo anche tanto. I Toscani con gli ultimi risultati sono di nuovo fuori dalla zona playoff. Appena 19 i giocatori convocati da Padalino, fuori per scelta tecnica Caccavallo, infortunati Terigi e Pezzella oltre Crescenzi e Kerbash. Recuperato il solo Bani, la presentazione del match di Padalino che potrebbe optare per la difesa a 4 e l'avanzamento di Di Santo. La scala rimane una di quelle candidate anche ai playoff, lo sappiamo. Mi auguro che siccome mi aspetto una partenza forte in una squadra che vuole subito dettare un certo tipo di ritmo, mi auguro che i miei calciatori siano non all'altezza perché quello è scontato che lo debbano essere, ma che siano già proiettati alla partita al tipo di partita che ci aspetta. L'impatto e la mentalità della squadra che deve scendere in campo e anche di coloro che possono subentrare deve essere di una squadra che deve provare a vincere. Trasferta per il Teramo a Cesena contro i bianconeri di Viali. Diavolo senza gli squalificati Rossetti e Bernardotto ma con la volontà di riprovare il colpaccio. Questa la presentazione della gara del tecnico Federico Guidi. Ascoltiamo. È chiaro che noi lavoriamo tutta la settimana come abbiamo fatto per provare a portare un risultato a casa. Il risultato deve essere il figlio della nostra prestazione e questa settimana dopo tanti giorni noi come tutte le altre squadre abbiamo avuto la possibilità di preparare la partita al meglio. Una partita che è sicuramente difficilissima troveremo un avversario di grandissima qualità di grande spessore in una cornice bella e motivante per poter provare a fare una grande partita e una bella prestazione. In base a quello che verrà scelto è chiaro che qualche dinamica può cambiare è chiaro che la struttura di Rossetti non ce l'abbiamo e quindi dal punto di vista del gioco aereo o delle palle inattive ci cambia ci cambia ci cambia tanto per quanto riguarda lo sviluppo del gioco e la fase di non possesso è chiaro che chiunque giochi deve interpretare quello spazio in maniera intensa come sta facendo Matteo in queste ultime partite Rossetti cosa che però nella prima parte di stagione non faceva questo ha fatto sì che lui si guadagnasse ad oggi la maglia da titolare noi dobbiamo riuscire a le squadre avversarie anche a avere la capacità di ribaltarle di ribaltare l'azione perché nel momento in cui pensiamo solamente a quando non abbiamo la palla poi diventiamo anche vulnerabili noi molto spesso quando ci siamo abbassati molto spesso abbiamo fatto gol e questo non è di peso da linea 3 linea 5 linea 4 sempre figlia dell'atteggiamento totale della squadra io penso che dobbiamo avere coraggio a di là di quello che sarà il sistema di gioco iniziale che poi per sistema prendetelo nella fase di non possesso perché poi nella fase offensiva cercheremo di essere molto dinamici e fluidi sul campo per cercare di essere imprevedibili per il Cesena non lo so per noi deve essere ci deve scatenare qualcosa a chi ha vissuto quella giornata a dare qualcosa in più perché poi l'orgoglio la motivazione ci devono essere per far capire che quella distanza non c'è tra noi e loro poiché loro siano fortissimi ci mancherebbe altro però il 4 a 0 deve pesare anche per capire che quello che abbiamo fatto e soprattutto quello che è successo nel secondo tempo dove noi abbiamo mollato una volta preso il gol non deve assolutamente succedere ma penso che ora questa squadra lo abbia capito è diversa e anche gestire magari dei momenti negativi come ci sono stati anche a Viterbo ora l'età media riesca a sopperire a questa a quella mancanza che abbiamo avuto nel girone d'andata questa era l'ultima notizia per questa edizione del TG6 la settimana grazie di averci seguito buon proseguimento grazie a tutti